A cinque anni dalla posa della prima pietra è stata finalmente inaugurata la nuova scuola dell'infanzia nel quartiere San Benedetto a Collatterrato Basso a Teramo. L'apertura vera e propria però ci dovrebbe essere per i primi giorni di ottobre insieme all'attivazione del servizio mensa. L'opera da contratto iniziale doveva essere conclusa da diverso tempo ma a causa di una serie di vicissitudini i lavori di completamento sono stati più volte bloccati. La scuola potrà accogliere fino a 150 bambini ma per ora ne saranno circa una novantina. Una struttura antisismica ma anche anti-covid, questo grazie ai grandi spazi che potrebbero essere tante bolle. Oggi è un giorno di festa, un giorno importante per tutta la comunità cittadina ma soprattutto per la comunità di Collatterrato, una comunità che ovviamente è quella maggiormente colpita dagli effetti del sisma. Oggi si apre, si inaugura questa scuola con un ritardo rispetto a quelli che erano i programmi. I lavori sono iniziati nel corso del precedente mandato amministrativo. Ieri ho sentito anche l'ex sindaco Brucchi con il quale volevo condividere, abbiamo condiviso questo momento. Ma di certo l'ultima fase è stata quella decisiva perché veramente, nonostante il ritardo, abbiamo corso il rischio serio che questa scuola non potesse vedere la luce in breve tempo. Invece è stato fatto un lavoro straordinario. Una scuola così importante, antisismica, ecosostenibile sotto tutti i profili, una scuola che ha cinque aule totalmente indipendenti, le famose bolle che erano state pensate e qui si possono veramente creare nel vero senso della parola perché sono classi indipendenti con due grandi aule che possono essere utilizzati come laboratori e un teatrino all'interno, oltre alla possibilità della mensa e del refettorio che sono un ulteriore fiore all'occhiello, una scuola che era necessaria per la nostra città. Dalla scuola si riparte, perché le future generazioni devono rappresentare il meglio a cui possiamo ambire e qui questa scuola sicuramente è un laboratorio che fornirà sicuramente le future generazioni della nostra città. Oggi l'inaugurazione, quando i ragazzi potranno usufruire di questa nuova scuola? Diciamo nel più breve tempo possibile, adesso c'è da portare alcuni mobili e arredamenti dalla scuola sempre di Collaterrato a questo nuovo edificio, ma lo faremo nel più breve tempo possibile. Siamo stati così bravi nel fare in pochissimo tempo tutti i lavori che mancavano che questo piccolo trasloco rappresenta quasi un'inerzia.